praticamente subito dopo il lavoro che abbiamo fatto ho ricevuto sia mail che telefonate e avevo concluso, mi sono arrivati dei soldi, una per una trattativa che aveva una vendita che sembrava molto difficile e che è andato tutto a compiere, praticamente 20 mila euro in giro di poche ore dopo l'attivazione del DNA della ricchezza